Ciao ragazzi, ben ritrovati da Mattia Rock God. Oggi video super super speciale. Voglio portarvi con me a fare un viaggio nel passato, perché quest'oggi voglio farvi vedere la mia collezione di giochi, ma appartenenti a un'epoca che io considero ormai passata, visto che per la maggior parte sono giochi che non uso più, però di tanto in tanto, se mi viene la nostalgia, magari, non so, una botta di corrente gliela diamo, eh? Allora, parlo ovviamente di PS1, PS2 e Nintendo DS. Ovviamente PS1 fisicamente non ce l'ho più. La PS2 ce l'ho ancora, eccola qua. Ho la Slim, che di tanto in tanto la uso solo quando ho nostalgia, ma soprattutto per assicurarmi che sia ancora funzionante. Tenete conto che a dicembre di quest'anno la mia PS2 Slim farà 16 anni. L'ho regalata a dicembre 2007, peraltro 2007 è stato anche l'anno di uscita della PS3, però all'epoca mi hanno regalato la PS2. Sì, perché me l'hanno regalata per Natale questa qua. E poi faccio vedere anche, un attimo che c'è tutte le robe sul tavolo, il Nintendo. Nintendo DS Lite, per essere precisi. Ovviamente è un pelino rovinato, adesso non so se si vede. Nello schermo qua sotto, vedete che c'è una specie di, ecco qua, ve lo avvicino, si vede una sorta di... Ecco, è rovinato, ecco. Perché comunque col pennino ci ho giocato tanto e quindi giustamente lo schermo si è un po' rovinato. Però comunque funziona ancora, anche se la batteria, mi ricordo di averla cambiata una volta, e quindi appunto adesso comunque è passato tanto tempo. Questo qua l'ho comprato sempre nel 2007. Mi ricordo anche che ci ho giocato, per esempio, alle superiori, me lo portavo dietro quando magari c'erano le ore buche, oppure c'era supplenza. Io lo giocavo magari con il diario, facevo la postazione per coprire tutto e mi portavo il Nintendo. Anche i miei compagni di banco con cui ero, mi ricordo, un anno o due. Si portavano magari il Game Boy con, non so, i famosi Pokémon Rubino, Smeraldo, Zaffiro. Eh, perché il Nintendo DS Lite, come vedete, c'ha anche un altro slot. Qui praticamente ci stava la cartuccia del Game Boy. E qua ovviamente ci stava la schedina del DS. Bene, allora, non so se riuscirò a fare un video unico oppure lo dividerò in parti, perché siccome dobbiamo parlare di tre piattaforme, non vorrei che il video venga lungo una cifra. E poi magari 300.000 ore di editing, 600.000 ore per caricarlo su YouTube. Quindi direi di partire subito. Partiamo dalla PS1 perché, ovviamente, voi direte, ah, ok, PS1, ma c'hai ancora giochi della PS1? È certo che sì, perché sapete che un gioco PS1 sulla PS2 funziona. Ovviamente col disco originale, perché copiato no. Allora, partiamo dalla PS1. Ho ancora qualche gioco originale. E funzionano appunto tutti quanti. Ripeto, appunto per questo che ogni tanto do una botta di correnta alla PS2, perché così almeno guardiamo se funzionano tutti. Allora, come sicuramente avrete avuto modo di... di guardare magari coi vostri occhi, molti di voi saranno cresciuti anche con due personaggi che hanno fatto la storia della PlayStation. Adesso comunque sono più multipiattaforma. Ma, recentemente, con l'acquisizione di Activision, Microsoft si è presa una bella fetta di pubblico, perché comunque adesso Activision è appunto un'azienda di Microsoft e quindi si sono appioppati una bella serie di IP e marchi famosi come Crash e Spyro. Perché fino a poco prima dell'acquisizione di Activision erano multipiattaforma. Adesso che sono diventati tutti di Microsoft, chissà. Però, sicuramente vi sarete accorti che Spyro ha avuto una sorta di fase di silenzio, forse anche troppo lunga, perché dopo Dawn of the Dragon del 2008, poi vabbè, è ritornato con gli Skylanders, c'è stata la Reignited Trilogy nel 2018-19 e poi però basta. Quindi Spyro è finito nuovamente in silenzio, nel dimenticatoio. Crash, invece, ha avuto la remastered dei tre capitoli, ha avuto la remastered di CTR, c'è stato anche Crash 4 It's About Time e adesso chissà. Quindi è solo Spyro che ha bisogno di ritornare un po' in auge, perché dà troppo tempo che manca. E partiamo appunto da Crash, perché voglio farvi vedere i capitoli che io possiedo. Allora, l'uno è l'unico che non ho fisico, perché l'uno ce l'ho sempre avuto copiato. E poi l'uno non mi ha mai colpito più di quel tanto, appunto, per l'elevata difficoltà di alcuni livelli. Mi sembra che anche nella remastered qualcuno si sia lamentato della difficoltà. Però anche lì è tutta un'esperienza diversa, comandi moderni, grafica della Madonna, quindi magari qualcosina l'avranno sistemato, eh. Però è al momento la remastered della trilogia di Crash non ce l'ho, perché non sono interessato al momento a comprarla. Magari la remastered di CTR un giorno la recupererò, perché mi dicono che, cioè, ho letto e mi hanno detto che è stata molto ben accolta. Quindi chissà, magari un pensierino. Comunque, vi faccio vedere il 2. Eccolo qua. Ho messo i dischi nelle bustine di plastica per evitare che si rovinassero i dischi. Tanto sono strausati, però funzionano. Ho anche il 3. Warped. Questo qua l'ho comprato da eBay anni fa. Adesso ve lo faccio vedere. Come vedete, ci sono anche i manuali di istruzioni. Ops, c'è il disco al contrario. Lo giriamo un attimo. Un secondo. Eccolo qua. Peraltro, in teoria, il gioco non è finito con la sconfitta di Cortex. Dovete far fuori anche Uka Uka. Però io con Cortex sconfitto mi sono accontentato. Infatti per me il gioco finisce con Cortex. Con Uka Uka bisogna recuperare tutte le altre cose, tipo le reliquie, mi sembra, poi anche le gemme. E lì il gioco diventa lunghissimo. Già i livelli sono comunque importanti, alcuni facili, alcuni più difficili. Però per me il 3 finisce con Cortex. Uka Uka, anche se lo lascio vivere, chi se ne frega. Poi CTR. Eccolo qua. Bellissimo anche questo. Me l'ha venduto un tizio di eBay anni fa, ovviamente sempre in questa piccola custodia di plastica. Però comunque funziona. Però so che c'è il remake o remastered, insomma, la nuova versione. E prima o poi la recupero. Perché anche se non sono un battito di giochi di macchine, questo però ha il suo perché. Quindi forse posso fare un'eccezione. E tornando a Spyro, io l'1 e il 2 ce li ho sempre avuti copiati. Ma il 3 fisico per PS1 ce l'ho ancora. Mi ricordo ancora quando l'ho comprato. C'erano ancora ovviamente le lire. E peraltro questo qua è l'unico Spyro che ho... E un attimo perché c'è la confezione che non regge molto. È l'unico Spyro che ho completato tutto. Peraltro ho perso il conto delle volte che l'ho finito. Perché come sapete, se avete fatto la storia, una volta che avete sconfitto la maga, non è finito il gioco. Però c'è ancora un pezzo da fare. Perché poi lei torna in vita, se così si può dire. E infatti poi dovete sconfiggere definitivamente. Una volta sconfitta definitivamente, allora sì che il gioco è finito. Poi vi ricordate che c'erano anche i livelli di Sparks? I livelli proprio... I portali con i livelli di Sparks? E poi c'era Zoe, la fata, che diceva a Sparks ora tocca a te perché devi fare il tuo livello. E venivamo appunto messi nei panni di Sparks. Bellissimo. Quindi dentro questo gioco qua c'era veramente di tutto. Anche i personaggini da salvare, Bentley, Sheila il Canguro, Sergen Bird, Agente 9. Bellissimo. Infatti ripeto, ho perso il conto delle volte che l'ho finito. Ma adesso c'è la Reignited, che io da un po' non tocco perché l'ho disinstallata. All'epoca quando avevo la One, ok, sì ho comprato la One X che era agosto 2018 e la Reignited è uscita tre mesi dopo. Ci ho giocato per un po', ma poi l'ho disinstallata perché all'epoca avevo ancora problemi con lo spazio. Adesso c'ho l'art disco esterno, quindi teoricamente non ce li ho più problemi di spazio, ma magari un giorno chissà la reinstallerò. Andiamo avanti, ora passiamo a tutt'altro tema e andiamo al calcio. Nonostante io non seguo il calcio di base, però da piccolo, vi ricordo che io ho preso in mano il pad per la prima volta a tre anni e sono cresciuto con Crash, Spyro, la PS1, però anche con il calcio, specialmente con FIFA. Di FIFA, quelli vecchi, peraltro funzionano tutti questi giochi che vi ho fatto vedere di Crash e Spyro e poi anche questi qua di FIFA. Ho ancora il 98. Ok, sì, il disco è torto, ma fa niente. Basta che si veda. Questo qua ancora lo gioco e mi trovo sempre un po' nel momento nostalgia quando lo metto dentro. FIFA 99, anche questo bellissimo. World Cup 98, questo me l'ha regalato uno dei miei cugini e questo non è un capitolo ufficiale, ma è uno spin-off appunto con il tema della Coppa del Mondo. Invece questo passiamo in territorio giapponese perché Konami ha fatto anche International Superstar Soccer, sottotitolato anche 2000. Questo qua è stato uno dei primi giochi di calcio che ho giocato, non FIFA appunto, e anche questo, devo dire, è sempre stato un portento veramente giocarlo. Mi ricordo ancora tutte le ore che ci passavo e tutti questi giochi qua della PS1 che vi ho menzionato non si contano le ore. Cioè io all'epoca appunto con PS1 ci giocavo tanto, però comunque ero anche piccolo, avevo il temporizzatore, come li hanno appunto alcuni bambini piccoli, magari anche di adesso. Se per caso qualcuno di voi è adulto, ha famiglia, ha figli, avete messo il temporizzatore alle loro console oppure non lo avete messo e sapete già voi di diritto quando dire a vostro figlio, a vostra figlia basta, stai giocando per troppo tempo, adesso fermati. Io il temporizzatore ce l'avevo sulla PS1 e anche sulla 2. Poi quando sono cresciuto un po' tanto ho detto ok direi basta col temporizzatore, adesso mi fermo io, so quando mi devo fermare. Adesso che ho la 360, ce l'ho ancora ma non la uso quasi più, e ora che ho la One X io il temporizzatore me lo metto io di base nel cervello, dico ok, sto giocando da un'ora e mezza meglio se faccio una pausa, quindi io so già quando mi devo fermare. Mi sa che dovrò dividere il video in più parti, ma non mi dà assolutamente fastidio. Quindi questa è la parte 5.1 legata alla PS1 e adesso vi vado a parlare della PS2, quindi rimanete lì. e poi rimanete lì.